Nata quattro anni fa per dare una risposta alla popolazione dell'ASL Roma D, la struttura di ortopedia del Policlinico di Liegro conta ogni anno 600 interventi al ginocchio. La ricostruzione dei legamenti o l'artroscopia sono infatti le operazioni più richieste all'unità di chirurgia di cui l'ortopedia diretta dal dottor Fabrizio Di Feo fa parte. Nel reparto si offre quella che comunemente viene chiamata chirurgia d'elezione, dal momento che i pazienti non urgenti hanno la possibilità di scegliere il periodo in cui sottoporsi all'intervento e il medico a cui affidarsi. Questo reparto fa parte del Policlinico di Liegro che è una struttura a carattere misto pubblico privato. Sì perché lo ricordiamo le strutture sono del privato mentre voi ospedalieri siete medici dell'ASL RMD. Questo offre dei vantaggi al paziente perché ha una struttura alberghiera molto buona, nel senso che essendo gestita dal privato ha una velocità di adattamento alle esigenze maggiore rispetto a una struttura pubblica e ha la garanzia invece di avere tutti i medici che hanno vinto dei concorsi che sono medici pubblici, quindi non medici che sono interessati al massimo guadagno nell'ambito di questa professione. Questa è una struttura di chirurgia generale nell'ambito delle quali ci sono varie sottospecialità e una di queste è l'ortopedia, ma abbiamo anche la ginecologia, la chirurgia generale propriamente detta, abbiamo l'urologia e altre piccole sottospecialità. Questa struttura è stata creata 3-4 anni fa per dare una risposta fondamentalmente alla patologia del ginocchio a Roma D, che è un asl che va da Ostia fino al Gianicolo, quindi una fetta abbastanza ampia e che non aveva una grande quantità di interventi di patologia al ginocchio. Io prima stavo al CTO di Roma e da qui mi sono trasferito proprio per fare soltanto chirurgia di elezione, cioè chirurgia per pazienti che hanno il tempo di poter scegliere dove essere operata. Attualmente facciamo circa 600 interventi di chirurgia al ginocchio l'anno e in totale circa 2000 interventi di chirurgia genale e tutte le varie branche. Durante la nostra visita in reparto il dottor Di Feo ci fa conoscere due pazienti molto diversi fra loro, entrambi reduci da un intervento agli arti inferiori. Il primo è un ragazzo ventenne Pierluigi Bartoli, operato a legamento crociato sinistro a seguito di un'intensa attività sui campi di calcetto. È un paziente che abbiamo operato ieri di ricostruzione del legamento crociato con semitendinoso quadruplicato. È un po' la specialità della ditta, per questo che lui è venuto qui da noi. L'obiettivo di questa ricostruzione è ridare stabilità al ginocchio che si è destabilizzato per la rottura del crociato. È così frequente la rottura o comunque un problema legato al ginocchio? Diciamo che nella patologia ortopedica, sono statistiche oramai consolidate, nei primi dieci interventi, quattro interventi sono di patologia del ginocchio, in particolare l'artroscopia, la ricostruzione regamentosa, e si sta affacciando con l'invecchiare della popolazione anche la patologia artrosica e quindi tutte le ricostruzioni del ginocchio, in particolare le ricostruzioni di protesi. Quindi la popolazione invecchia è normale che aumentino. In più, diciamo che i risultati che abbiamo oggi in patologia del ginocchio non sono quelli che avevamo 30 anni fa o 20 anni fa, sono risultati molto più standardizzati e i pazienti si affidano a questa piccola chirurgia con maggiore entusiasmo, chi per giocare a calcetto o chi più anziano semplicemente per camminare. Per arrivare in sala operatoria il paziente si è iscritto ad una lista d'attesa che in media si aggira intorno ai due mesi. Qui c'è una lista d'attesa per quanto riguarda le visite e una lista d'attesa per quanto riguarda la chirurgia. Ovviamente abbiamo cercato di fare tutto in modo da andare incontro al paziente. Questo significa che cerchiamo di avere la lista d'attesa per le visite più breve possibile, cerchiamo di avere la lista d'attesa chirurgica più breve possibile e nell'ambito della chirurgia di fare una chirurgia che pur mantenendo degli ottimi risultati meccanici abbia una ottima stabilità e soprattutto si avvicina al paziente, cioè non lo faccia soffrire tanto. Nel caso specifico del giovane Pierluigi l'equipe del dottor Di Feo ha dovuto effettuare una ricostruzione semi-tendinosa. Quanto al periodo di degenza la previsione è quella fissata dai DRG, ovvero circa tre giorni, sebbene in media il paziente sia pronto ad andare a casa anche dopo due. Questo ad esempio è un ragazzo molto giovane, che faceva una grossa attività di calcetto, adesso si è rotto il crociato, ne fa un pochettino meno, e gli abbiamo fatto una ricostruzione col semi-tendinoso. È una ricostruzione che consente, come vedete, di non avere grossi dolori. Noi siamo in seconda giornata post-operatoria e lui piega già il ginocchio fino a 90 gradi, vedete, senza soffrire, dobbiamo quasi fermarlo. Questo tipo di intervento è particolarmente adatto a queste persone, perché è stabile senza dare un grosso dolore post-operatorio e senza dare grandi problemi. Per i calciatori veri, invece, quelli duri e puri, facciamo l'intervento classico col tendinero duro, lo stesso che viene fatto per i calciatori di serie A, con gli stessi materiali. Noi speriamo anche con la stessa serietà da parte nostra e da parte del paziente che poi deve fare più l'abilitazione, che è un pelettino più fastidioso. La seconda paziente che il dottor Di Feo ci presenta è Viviana Belloni. Ultraottantenne, ma con la vitalità di una ragazza, la signora ha alle spalle un'artroscopia al ginocchio sinistro e una protesi al destro. Quando la incontriamo, ha da poco subito un secondo intervento all'arto destro. In modalità mini-invasiva, ha assicurato Di Feo che lascerà una piccola cicatrice. Questa paziente che vediamo in particolare, una paziente che abbiamo operato forse, è un esempio di quello che attenderà anche noi nel futuro. C'è una paziente che mantiene un ottimo livello di vita, è una paziente che ha 80 anni ma che si mantiene estremamente efficiente. e devo dire che noi facciamo un po' i chirurghi estetici articolari. C'è una paziente che abbiamo operato già la terza volta che operiamo al ginocchio, ha fatto un'artroscopia qualche anno fa, è stato operato a una spalla, ha fatto una protesi di ginocchio un anno fa e adesso è venuta a noi per fare l'altra protesi di ginocchio. È una persona con grandissima efficienza intellettiva, la signora Viviana, ed è estremamente simpatica dal punto di vista interattivo perché ci dà continuamente degli input che noi non ci aspetteremo, che però sono utili anche a noi. Non ci aspetteremo come capacità di interpretare i segni clinici perché lei è stata nell'ambito della sanità per tanti anni e quindi capisce bene come funzionano le cose. Posso? Adesso esponiamo le nostre meraviglie. Questo ginocchio che vedete qui è una protesi che è stata operata con una protesi svizzera circa 2009, due anni fa. Due anni fa vedete come l'articolarità del ginocchio è completa, piega completamente la gamba, piega completamente la gamba è stabile e la signora era così entusiasta che è venuta a fare un'altra protesi. Ecco la cicatrice, si vede. Questa è la cicatrice della prima protesi che voi vedete, è una cicatrice abbastanza piccola. Questo invece è il secondo intervento, c'è stata un'evoluzione, siamo passati a una chirurgia mininvasiva con cicatrici più corte, più piccole. Oggi tutta la chirurgia in generale è mininvasiva, cioè cerca di dare cicatrici più piccole non solo per un motivo estetico, ma anche per diminuire quello che è il trauma chirurgico al paziente. Consideriamo che la signora sta 5 giorni dall'intervento, 6 giorni dall'intervento e come vedete piega con qualche dolore ovviamente, perché adesso voi non avete del tutto il sonoro di cosa pensa la signora, però vedete che piega a 0,90, il ginocchio è appena appena gonfio, chiaramente mantiene un pochettino di crioterapia del ghiaccio sul ginocchio in modo da migliorare il tutto, ma vedete che la gamba è quasi uguale all'altra e siamo stati fortunati noi e la paziente ad avere un decorso così brillante che infatti vi presentiamo. Quanti giorni la paziente dovrà stare ancora a letto e ricoverata all'ospedale? La paziente già cammina dal secondo giorno perché conosce molto bene quelle che sono le nostre e le sue capacità, chiaramente con grande moderazione e in media sta a letto ferma i primi 2-3 giorni, dopodiché comincia a camminare, a muoversi, a fare tutte le attività e da qui andrà in un istituto di riabilitazione dove integrerà meglio quella che è la ripresa di tutte le capacità motorie che lei ha. Per altri 30 giorni? Per una trentina di giorni, in media una protesi di ginocchio comincia a stare veramente bene intorno ai 40 giorni. All'inizio chiaramente è un intervento importante, mentre il ragazzo che avete visto è un intervento di stabilizzazione del ginocchio, qui abbiamo sostituito il ginocchio, c'è una perdita di sangue, abbiamo recupero di sangue post-operatorio e ci sono tanti piccoli giochi di emodinamica e di sanità che dobbiamo fare. Abbiamo detto che sono molte le operazioni simili a quelle che sono state effettuate sul ginocchio della signora in questo reparto. Sì, noi facciamo circa 600 interventi l'anno perché è una richiesta della popolazione, consideriamo che il ginocchio è importante per muoversi, quindi è fondamentale per la vita delle persone. Esatto, quindi dalla piccola patologia meniscale che in realtà è quella che facciamo di più numericamente alla grande patologia artrosica che vedete in questo caso.